Ciao a tutti, sono Daniele Serra e mi sono occupato di creare l'artwork per la copertina del libro Octoberland, edito dalla PS Publishing. È stato un lavoro molto interessante e particolare perché per la prima volta ho lavorato su un soggetto di questo tipo, vale a dire un parco di divertimenti abbandonato. Ho ricevuto l'idea dall'editor e dalla scrittrice che appunto volevano ricreare una situazione di un parco di divertimenti in autunno abbandonato e spettrale. Di conseguenza ho lavorato nel mio solito metodo, vale a dire ho preparato prima uno sketch veloce in cui metto a fuoco un po' gli elementi che devono essere presenti nella copertina e lavoro così anche sull'equilibrio della tavola. Una volta che lo sketch è stato approvato dall'editor e sono passato alla lavorazione vera e propria. In genere io lavoro con l'acquerello, il mio medium preferito, quello che utilizzo in genere per quasi tutti i lavori, acquerello su carta. Di conseguenza ho iniziato soprattutto a pensare dal punto di vista dei colori, come potevano essere utilizzati e quali erano le grade azioni migliori per questa tipologia di progetto. L'idea alla fine è stata quella di utilizzare dei blu e dei gialli con qualche tocco di viola. Io in genere utilizzo delle tonalità molto simili, vale a dire che non uso una gamma di colori molto ampia e questo mi permette di focalizzare meglio l'attenzione sull'effetto emozionale che cerco di far passare attraverso la mia opera. Il lavoro ha richiesto un paio di giorni dal punto di vista di sviluppare l'idea e dopo di che altri due o tre giorni per poi realizzare effettivamente l'opera. È un'opera a cui sono molto affezionato, che sono divertito molto a produrre e spero che possa piacere ai lettori di Oktoberland.